Avviare in modo concreto la ricostruzione per permettere di far rientrare i cittadini nelle proprie abitazioni. Questo è quanto sono tornati a chiedere i circa 50 sfollati che hanno partecipato all'incontro promosso dal centro politico Santa Croce e dallo sportello sociale Asia-USBA con l'Atterrato Basso. Un incontro durante il quale sono stati illustrati dall'assessore di Buonaventura i criteri che saranno adottati per l'assegnazione dei 147 alloggi che verranno messi a disposizione per gli sfollati terramani. Purtroppo con le norme ancora vigenti i tempi saranno lunghi, per non dire lunghissimi, sono passati due anni e mezzo ad oggi non siamo riusciti a dare una risposta come amministrazione, come Stato, come Regione. Quindi il problema qual è? Adesso il nostro sindaco si sta attivando, ha fatto insieme a altri sindaci, diversi emendamenti alla legge allo sblocca gangliere proprio per andare a modificare quelle norme, almeno per poter consentire, trasferire i fabbricati di tipo B ai comuni per accelerare i tempi di recupero di questi alloggi. Insomma la situazione è preoccupante. C'è una forte protesta, adesso ci sarà probabilmente un altro incontro con il sindaco, loro chiederanno un incontro con il sindaco, con i rappresentanti regionali della protezione civile per trovare soluzioni per accelerare i tempi. Nel frattempo poi ho comunicato che a breve uscirà un bando per l'assegnazione di quegli alloggi acquistati dalla Regione. Ovviamente lì avranno la presenza quelle che sono in albergo, non è obbligatorio inoltrare la domanda per il momento, quindi chi la vuole fare partecipa, chi non fa, non è obbligatorio. Intanto si comincia a dare prime risposte abitative per chi vuole. Logicamente non è questa la soluzione perché l'obiettivo è di far rientrare gli assegnatari, i cittadini che sono stati scomparati il prima possibile nei loro casi. Purtroppo i tempi si stanno allungando in maniera non accettabile, bisogna trovare soluzioni, ma soprattutto normative, soluzioni normative, per migliorare e per accelerare il percorso.